Ciao e benvenuto in un nuovo video di Finance Drip. Quest'oggi parleremo degli etf obbligazionari a scadenza. Cosa sono? Come funzionano? Inoltre vedremo in quali casi possono essere dei degni sostituti di obbligazioni o etf obbligazionari. Iniziamo! Cosa sono gli etf obbligazionari a scadenza? Come dice il nome stiamo parlando di fondi indicizzati che investono in obbligazioni. L'emittente per emetterli andrà quindi ad acquistare un buon numero di titoli per comporre il paniere. In un normale etf obbligazionario quando uno dei titoli all'interno del fondo scade l'emittente prende il denaro restituito e lo utilizza per comprare una nuova obbligazione. Questo fa sì che l'etf non abbia di fatto una scadenza in quanto le obbligazioni al proprio interno andranno ad essere continuamente sostituite. Gli etf obbligazionari a scadenza invece prevedono di restituire al possessore il denaro ad una certa data alla quale l'etf cesserà di esistere, similmente ad una normale obbligazione. Quando un'obbligazione dentro questi scade l'emittente lascerà il denaro parcheggiato all'interno del fondo senza acquistarne di nuove o comunque acquistando dentro la data di scadenza del fondo. Le obbligazioni contenute in questo etf obbligazionario pertanto avranno un andamento maggiormente simile all'acquisto diretto di obbligazioni in quanto man mano che si avvicina alla data di rimborso dell'etf avranno una scadenza via via più corta. Per fare un esempio se acquistasse un etf obbligazionario che scade nel 2028 tutte le obbligazioni al suo interno avranno una scadenza entro il 2028. Se una di queste dovesse scadere ad esempio nel 2025 il fondo potrebbe detenere cash fino a scadenza oppure acquistarne un'altra che scada comunque entro il 2028. Raggiunto il momento della scadenza dentro l'etf sarà rimasto soltanto cash in quanto tutte le obbligazioni saranno ormai scadute. Il fondo verrà chiuso e il denaro verrà rimborsato agli investitori. Questa tipologia di etf è piuttosto recente in Europa e al momento vi sono circa una ventina di etf obbligazionari a scadenza di cui 12 negoziabili su borsa italiana. Gli emittenti sono iShare ovvero BlackRock e XTrakers mentre le scadenze vanno dal 2026 al 2033. In riferimento a quelle disponibili su borsa italiana nel momento in cui sto registrando investono tutti in obbligazioni corporate in euro. La scelta di escludere le obbligazioni governative potrebbe essere dettata dalla bassa competitività che avrebbero questi etf se comparati all'acquisto diretto di titoli di stato come vedremo più in là nel video. Ad ogni modo non dubitiamo che se risultassero molto popolari potremmo vederne di altre tipologie in futuro. L'obiettivo del comprare un etf a scadenza sarà pertanto rientrare in possesso del capitale entro una certa data ma con l'utilizzo di un fondo indicizzato anziché una o più obbligazioni. Questo non sarebbe possibile con un normale etf obbligazionario ed è il principale motivo per scegliere questi sopra dei classici etf corporate europei. Ora che abbiamo capito che cos'è analizziamo nei pro e contro iniziando dai pro. Il primo pro è la diversificazione. Il chiaro e immediato vantaggio dell'acquistare un etf obbligazionario sarà la diversificazione in quanto all'interno del fondo saranno presenti decine e decine di obbligazioni di numerosi emittenti. Questo può consentire anche a chi abbassi i capitali di diversificare le obbligazioni similmente a come farebbe tramite l'utilizzo di normali etf obbligazionari. Siccome le obbligazioni spesso e volentieri hanno tagli da mille può essere complesso acquistarne molti per investitori con capitali contenuti. Il secondo pro è la semplicità. Acquistare un etf è più semplice dell'acquisto di obbligazioni. Non dovrai fare particolari ricerche in merito alla solidità dell'emittente, alla borsa su cui l'obbligazione è scambiata e altre caratteristiche del titolo, ad esempio cedole variabili o eventuali call. Spesso le emissioni corporate presentano delle complicazioni di cui è necessario tenere conto. L'emittente si occuperà degli acquisti ed eventuali ribilanciamenti qualora dovessero essere necessari. Il terzo pro è l'opportunità. Molte piattaforme ti consentono di acquistare etf in modo rapido, automatizzabile e con commissioni molto basse. Nonostante l'elevata informatizzazione, alcuni broker ancora non consentono l'acquisto di obbligazioni, rendendola l'unica scelta possibile per gli investitori che li utilizzano. Se questo poteva essere poco rilevante fino al 2020, grazie al rialzo dei tassi sono andate a crearsi numerose opportunità di acquisto, di obbligazioni a prezzi e quindi rendimenti molto interessanti. Investitori che utilizzano broker esteri spesso sono tagliati fuori da queste opportunità e questi etf potrebbero consentirgli una maggiore flessibilità. Il quarto vantaggio è la liquidità. Gli etf hanno spesso una liquidità maggiore delle obbligazioni. Questo comporta una più rapida negoziazione in borsa, permettendoti in molti casi di risparmiare qualcosa di spread e avere un minore rischio di liquidità, rischio sempre presente quando si acquistano obbligazioni di emittenti non particolarmente popolari. Le obbligazioni corporate in particolare sono spesso le meno liquide, non solo sul MOT e il mercato obbligazionario telematico di borsa italiana. Questi sono a nostro avviso i principali pro dell'acquisto di questi prodotti. Diversificazione, semplicità, liquidità e possibilità di compravendita anche per chi non ha accesso al MOT. Come tutto però ci sono sia dei pro che di contro e gli etf obbligazionari a scadenza non fanno eccezione. Il primo contro sono i costi. Essendo dei fondi indicizzati, a differenza delle obbligazioni, presentano dei costi di gestione. Il TER si attesta circa sullo 0,12% a cui vanno aggiunti i costi di transazione che l'emittente deve sostenere, disumibili dal KID, per un costo totale di circa lo 0,16%. Con l'eccezione dei titoli di Stato italiani in emissione, per l'acquisto di obbligazioni spesso bisogna pagare dei costi di compravendita. Di conseguenza questo risparmio sul costo di gestione sarà tanto più rilevante quanto elevato il patrimonio investito. Investitori con patrimoni medio-grandi troveranno quindi più economico e redditizio investire in obbligazioni diversificate, reinvestendo in autonomia la liquidità quando queste scadono. In ultimo, siccome l'etf aumenterà progressivamente la quantità di cash, l'investitore pagherebbe un TER sul denaro fermo. Questo può dar fastidio ad alcuni investitori attenti ai costi. Il secondo contro è l'inefficienza fiscale. Moltissimi investitori hanno delle minusvalenze da compensare e molti altri ne accumuleranno ora della scadenza dell'etf. Essendo un etf, questo è incapace di compensare eventuali minusvalenze. Al contrario, obbligazioni corporate possono farlo in modo molto efficace grazie alla tassazione del 26% sulle plusvalenze generate a scadenza e rimborso del titolo. Investitori con minusvalenze pregresse troveranno quindi molto più redditizio l'acquisto di obbligazioni corporate, andando a selezionarne sotto la pari, ovvero con prezzo sotto 100. Per gli investitori senza minusvalenze varrebbe la pena confrontarli coi titoli di Stato, che avendo una tassazione che è meno della metà, in molti casi possono risultare più redditizi. Il terzo contro è la scarsa flessibilità. L'investitore che acquista etf obbligazionari a scadenza non ha nessun modo di verificare il rating e il rendimento delle obbligazioni sottostanti, se non in modo aggregato. Non ha facoltà di intervento sul portafoglio sottostante ed è costretto a sottostare le tempistiche di distribuzione dell'emittente. Un investitore potrebbe obiettare che questo ragionamento possa essere applicato anche agli etf azionari, tuttavia c'è un'enorme differenza tra i due. Nel caso delle azioni queste hanno una volatilità elevata ed un rendimento incerto. Acquistarne centinaia ha anche il fine di andare a catturare quelle che avranno rendimenti incredibili, che noi non possiamo conoscere a priori. Escludendo le tasso variabile, la maggior parte delle obbligazioni hanno un rendimento calcolabile, quindi non è necessario prenderne quantità enormi per catturare quelle che avranno rendimenti superiori. Nessuna li avrà. Anzi, sceglierle singolarmente ti dà la possibilità di andare a catturare precisamente il rendimento che desideri, evitando quelli che gli offrono troppo bassi o con un rating insufficiente per la nostra propensione al rischio. In secondo luogo, perché un'azione abbia rendimenti positivi devono esserci dei motivi, ad esempio un buon andamento del business oppure una situazione macroeconomica che convoglia risorse nel comparto azionario. Un'azienda con una cattiva performance tenderà ad osservare un calo del prezzo delle azioni, motivo in più per acquistarne molte. Ad un investitore in obbligazioni quanto faccia bene o male l'azienda o la nazione interessa relativamente. La cosa importante è che non fallisca entro la scadenza, rimborsando il capitale e pagando le cedole. Potrebbe interessare ad uno speculatore che cerca di approfittare di variazioni dei tassi o dei rating, ma la speculazione e il trading non sono materie di nostro interesse, essendo un investitore buy and hold di lungo termine. Il fallimento di un emittente è più difficile che avvenga, soprattutto quando parliamo di stati sovrani. Per queste ragioni diversificare in obbligazioni e in obbligazioni corporate in modo efficiente non necessita possederne elevate quantità. Certamente nel caso delle corporate a fini della riduzione del rischio è appropriato averne di più, allocarci una quantità inferiore di capitale rispetto ai titoli di Stato. Nel caso dei titoli di Stato europei, essendo questi pochi, ne possono bastare 4 o 5 per avere lo stesso profilo di rischio di un ETF obbligazionario. Prendendo come esempio le share core euro government bond, possiamo osservare che oltre il 70% dell'investimento sia in soli 5 emittenti. In ultimo, il rendimento finale di questi ETF non è precisamente calcolabile. Ciò può risultare meno efficiente in fase di pianificazione dei flussi di cassa. Ma quindi per quali investitori possono essere adatti? Considerando i pro e i contro, vediamo l'utilizzo di questi ETF particolarmente indicato per investitori che soddisfano tutti questi 4 criteri. Primo, hanno bassi capitali. Secondo, non hanno minusvalenze da compensare. Terzo, all'interno della propria asset allocation desiderano obbligazioni corporate. Quarto, hanno necessità di avere i fondi liquidi a una certa data. Investitori con capitali elevati troveranno più vantaggiose le obbligazioni. Investitori con minusvalenze guadagneranno di più scegliendo titoli di Stato e corporate sotto la pari. Investitori che non hanno alcuna necessità della restituzione del capitale troveranno più efficienti gli ETF standard. Sono possibilmente interessanti per portafogli che hanno una duration dell'investimento predefinita, ad esempio 4 o 5 anni, con lo scopo potenziale di liquidare tutto l'investimento una volta raggiunta la duration. In tal caso bisogna però considerare di fare un mix con strumenti efficienti, come azioni, etc e obbligazioni, in quanto a scadenza è possibile che uno o più titoli saranno sotto e generino minus. Un ETF obbligazionario senza scadenza non è costretto a detenere una liquidità sempre maggiore e andrà a reinvestirla per intero periodicamente. Di conseguenza, a parità di altri fattori, potremmo aspettarci un rendimento maggiore. Se il motivo per sceglierli con scadenza è controllare la duration, esistono numerosi ETF senza scadenza, con duration medie, basse o molto basse, il cui rendimento atteso è quindi simile. La volatilità sarà tanto inferiore quanto bassa è la duration media dell'ETF. Per fare un esempio, un ETF che investe in titoli governativi con una scadenza compresa tra 0 e 6 mesi avrà una volatilità vicina a 0. Un ETF corporate con titoli tra i 0 e i 3 anni la avrà molto bassa, eccetera. Gli investitori che trarrebbero vantaggi economici dall'acquisto di singoli titoli, ma non possono acquistarne perché il broker non glielo consente, potrebbero valutare l'utilizzo di un altro intermediario. L'offerta è ampia e non mancano quelli che operano in regime amministrato. Se vivi in Italia e stai accumulando capitale, è verosimile che ad un certo punto della tua vita da investitore potrai trovare molto utile la flessibilità offerta dall'accesso al MOT. Sul MOT puoi trovare titoli obbligazionari di centinaia di emittenti, incluse in valute diverse dall'euro. Puoi filtrarli per scadenza, rendimento, tipologia di cedola e altro. Un'altra casistica che spesso salta fuori quando si parla di ETF obbligazionari a scadenza è la possibilità di utilizzarli come parcheggio di liquidità. Questo è certamente possibile, ma ci teniamo a precisare che non rappresentano un porto sicuro quanto lo possono essere dei titoli governativi, ETF monetari o depositi bancari svincolabili. Le obbligazioni corporate, essendo legate a un'azienda, sono maggiormente correlate al mercato azionario. Come abbiamo osservato nel 2020, in caso di crisi tendono ad avere una maggiore oscillazione del prezzo, in quanto gli investitori spaventati saranno maggiormente inclini a liberarsene rispetto ai titoli di Stato. Siamo arrivati alla fine, spero che il video ti sia stato utile e ti abbia fornito degli spunti. Se il video ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un like ed iscriverti al canale. Alla prossima!